Sarà operativo dal 28 giugno a Campobasso l'ecopunto dedicato alla raccolta di piccoli rifiuti elettrici ed elettronici aperto da SEA grazie alla collaborazione con Aerion, la postazione dove sarà fruibile il servizio, quello dell'ex edicola di Viale Insorti d'Ungheria. Quindi in questo luogo sarà possibile conferire materiale come tablet, pc, smartphone, lampadine, pile e tv assistiti da personale qualificato. L'obiettivo è quello di fare sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata di questi rifiuti particolari e nel contempo offrire ai cittadini un servizio semplice e pratico per conferirli così da incrementare la raccolta ed impedire che magari questi rifiuti possano prendere strade scorrette di smaltimento. Va aggiunto che i rifiuti elettrici ed elettronici contengono numerose materie prime e materie prime critiche come le terre rale che se correttamente riciclate possono essere recuperate e rimesse nei nuovi cicli produttivi. Da una ricerca realizzata da Ipsos per Aerion emerge che l'81% degli italiani tiene un apparecchio elettronico senza usarlo, mentre il 61% non lo butta anche se è rotto. Ma cosa frena i cittadini ad un corretto conferimento? Il 39% pensa di poterlo riparare, il 30% di poterne utilizzare le parti di ricambio, il 23% dichiara ancora di non conoscere la corretta procedura di smaltimento, il 15% ha difficoltà nel raggiungere un centro di raccolta. Dal 28 giugno l'operatività del nuovo centro raccolta cercherà di incidere su questi dati statistici.